Io sono Fabrizio Valentini, sono il vice director del design del Pininfarina Styling Center e volevo introdurre il nuovo Ferrari FF design da Pininfarina. Ho iniziato a lavorare in Pininfarina nel 1995 e ho iniziato a lavorare immediatamente sul progetto Ferrari. Ho iniziato a lavorare sulla versione Spyder del 360 fino alla ultima A-cylinder FF 48 Italia. Il FF 48 Italia è un caro molto importante per la mia vita e per la mia carriera perché ero il leader del progetto e credo che il FF 48 è un caro molto moderno, un caro molto moderno A-cylinder che comunica una nuova immagine di un caro sportivo, molto leggero, molto veloce e molto moderno. Come ho detto prima. Penso che nel termo di sensazione di famiglia, possiamo notare il stesso trattamento e il stesso leggero anche sul nuovo FF. Quindi i cari e i compsetti sono molto diversi. Come ha detto M. Montezemolo, come diceva, un caro diverso Ferrari per un caro diverso. Ma possiamo vedere nel trattamento di questi cari, il stesso sentimento, il stesso trattamento, e la luminosità delle superfici e l'immagine extremamente sportive di questi cari. Il trattamento che ricevono da Ferrari era molto chiaro. La cosa più importante era avere un caro non più lungo di Scaglietti e la seconda cosa importante era la possibilità che il progetto devono dare a 4 persone per andare, per esempio, a fuori per un weekend con lage per tutti. E per questo brifo abbiamo fatto questo tipo di stile. La ricerca di stile comincia al fine del 2007 e abbiamo fatto un lavoro molto difficile sul mock-up, sul polyester e il mock-up, per trovare i volumi corretti. Poi procediamo alla definizione del stile del fronte e del stile del side view. e, come ho detto prima, molto di lavoro è stato fatto per definire il stile del fronte del carro. La lunga del carro è completamente la stile del scaglietti, 4 metri e 900 millimetri. La base del carro è 40 millimetri lunga, 20 millimetri nella parte del carro per la posizione del 4-wheel drive, 20 millimetri nella parte del carro per dare più riuscire ai passaggiatori. La parte centrale del progetto è la parte del carro. La parte del carro è una sorta di ruota, molto sportiva, con una alta capacità di baggazioni. Un altro numero importante del carro è la 400 litri di capacità nel tronco. Il carro è molto legato, molto sportivo e è un vero, vero Ferrari. Voglio mostrarvi alcuni dettagli nel fronte del carro. La griglia è una griglia completamente nuova, con una nuova forma e con un mix di griglia e colore del corpo. Un altro aspecto molto interessante è la lampa del carro, che fa una sensazione buona famiglia con il 4-5-8. Per la vista del carro, è molto importante notare l'exhausti nel fronte del carro, e la luminosità del stile e delle superfici. Come ho detto prima, molto importante e molto interessante è la parte parte del carro, con una griglia molto grande e la caratteristica circolare del Ferrari. E anche nel fronte del carro, con le fendere, due exhausti per la funzione aerodinamica del carro. In termini di processo, è importante dire che abbiamo lavorato molto per definire la reale parte di questo veicolo, perché vogliamo dare al carro una grande ruota, ma anche un'applicazione molto sportiva. E credo che il risultato è un veicolo fantastico. Grazie a tutti.